A mille ce n'è di anime che so raccontare a te, ieri ma... Anime in fabula, l'unico podcast che trasforma le trame degli anime in favole per bambini. Leggere il foglio illustrativo, evitare l'uso prolungato, può causare dipendenza, erezione e perdita di neuroni, fino a diventare un semplice italiano medio. Ciao bambini maggiorenni! Su certi aspetti è meglio che non si tentenni. Questo podcast trasforma le trame degli anime in perfette favole della buonanotte, recitate sempre in rima per tutti quei bimbi che queste serie non le hanno mai viste prima. Ma non addormentiamoci come quando si ascolta un pezzo di Amedeo Minghi, perché oggi parliamo di vichinghi. Ogni favola comincia con c'era una volta? State pensando che la fantasia non è molta? Eppure regala quell'atmosfera assorta per addentrarci in questa distesa aperta. Un uomo è all'interno di un campo di grano, tocca le spighe con la mano, il sole è alto, non c'è paura. E tutti state a pensare a un'altra sceneggiatura, perché l'avete già visto il gladiatore. E quindi direte che se anche sta favola è ambientata in Islanda, sto poro cristiano o è morto o poco ci manca. E infatti il suo passato ci viene subito mostrato, per farci capire che grande guerriero che è stato. Thors, il padre di Thorfinn! Figlio di Khmer, della tribù di Ishtar, della terra desolata del Pffni, dell'Aor! Vabbè, lui, il padre del protagonista, uno che nelle battaglie decisive fa da apripista, cioè nel senso che corre da solo verso il nemico, anche prima che arrivi l'esercito amico. Questo fa fuori 22 persone in 18 secondi, e la prima puntata non è nemmeno iniziata. Questo raggiunge dei picchi che levate dei Filippi. Ecco perché uno di quelli che uccide dice Maria, mi dispiace. Sei fuori dalla scuola di amici, dai, non sei capace. Abbiamo conosciuto il padre del nostro protagonista, ma di personaggi secondari qui ce n'è una lunga lista. Per esempio Villand, il nome della serie, è lo stesso delle terre leggendarie che ci narra il Cantastorie. Un commerciante e navigatore. Un guerriero? No, ma un bravo oratore. Lui dice che i guerrieri e i marinai ugualmente si devono ammirare. C'è chi va in battaglia e chi ce li accompagna, con la barca, in mare. C'è chi va a rapinare e chi col motore acceso è pronto a guidare. Chi nei film porno appare e chi quando è tutto finito, da solo a casa continua a montare. Per fare le scene che poi tu andrai a guardare. Hai visto che questo tizio adesso lo vuoi ammirare? Due personaggi ve li ho presentati. Ma ce ne sono tanti. Li nomino tutti? No, la storia va avanti. Di notte uno schiavo è fuggito. E correndo, correndo, dove sarà finito? Davanti a casa di Tors, il mio preferito. Questo dal ghiaccio viene salvato. Viene anche rianimato. Che culo, non è morto congelato. Ma se è fuggito, qualcuno l'avrà inseguito. Infatti il mattino seguente, il padrone dice presente. Al suo seguito ha portato dei guerrieri. Così intimidirà i contadini e i proprietari terrieri. Arriva all'abitazione in cui è situato, spalanca la porta e vede Tors con lo schiavo che ha curato. E gli chiede, senti, me lo ridai sto malcapitato? E Tors risponde, e tu quanto l'hai pagato? Ma due giovani pecore mi è costato. Regà, regà, maledetti Sekai, mi avete sempre traviato. Io pensavo che un harem di schiave me lo avrebbero dato, solo dopo essermi reincarnato in un mondo mai visitato. Adesso scopro che il nostro mondo, quello reale, non è male. Anzi, non è affatto avaro. Cioè, basta la falpeco raro? Oh, da Villand Saga molte cose ho cominciato ad imparare. Una di queste è che il sabato non ci si deve lavare. Tu sei a mollo nel fosso e gli inglesi, pam, ti piombano addosso. Quando sei nudo, fragile e impreparato. A me in quello stato non me ci hanno mai beccato. Ma te, troppo ti stai agitando, vatti a lavare che stai puzzando. Ma no, Gilda, adesso il podcast sto registrando. E poi non posso lavarmi, è sabato, il motivo lo devo ribadì? No, ma oggi è giovedì. Sì, sì, noi ridiamo, ma una nave arriva a cercare il troll, che è sempre lui, Tors. Perché all'inizio della serie ci viene mostrato che un sacco di gente ha trucidato. Ma solo adesso scopriamo che poi ha disertato. Che strano scenario, sto poro padre faceva al mercenario. Così quando il re di Danimarca per la guerra chiama ogni vassallo, anche lui viene tirato in ballo. Capitano dei vichinghi di Jomsborg, Tors il troll. La guerra è imminente e tu combatterai insieme a noi, anche se non vuoi. Deve combattere per la Danimarca, senza girarci troppo alla larga. E lui, che è un uomo saggio, accetta per non far distruggere il villaggio. E la gente che ha salvato, quella di sto paesino, è felice ad andare in guerra. Sì, famo casino! Dai che morimo! Beh, perché l'onore è ciò che li attanaglia. Per un guerriero è importante morire in battaglia. Questi sono gli uomini di una volta. Quelli erano di un'altra lega. Mica come Denji, che in testa c'ha una motosega. Quello combatte i diavoli, non per entrare nel valalla. Lo fa per le tette. Dai che una devo palpalla! Popi, popi! Nel valalla puoi entrare solo se in uno scontro finisci per morire. Denji, invece che c'ha una motivazione banale, diventa pure immortale. Tutto ciò che ci insegna che non c'è limita al potere della fregna. Devi chiedissima. Thors partirà con una nave per unirsi alla guerra. Questo è deciso. Ma chi l'ha reclutato è andata a parlare con qualcuno che lo avrebbe ucciso. 15 anni prima hai lasciato la mia truppa? E vabbè, a letto senza zuppa? No, la punizione è un po' più dura. Diciamo morte sicura. Di questo compito chi se ne prenderà cura? Askeladd, il capitano di una nave pirata, che organizzerà l'imboscata. E pensare che Thors voleva andare in guerra da solo, lasciando i ragazzi del villaggio al sicuro su un altro molo. Lui, la nave, l'avrebbe governata senza aiutanti. Se non l'avete notato, usaremi giganti. Non ci credete? Volete sapere quanto grandi? E quanto le mani di Gianni Morandi. E allora come fa a perdere costui? Perché il protagonista, suo figlio, Thorfinn, è andato con lui. Mia nonna che diceva? Valli a fare i figli. Da piccoli sono germogli, da grandi saranno fiori che non cogli. Se non avete capito perché siete poco svegli, avranno la loro vita proprio perché la vostra sarà finita. Pensate che sia un buffone? Eh no, la serie mi dà ragione. Thor's sbaraglia tutti i pirati in un battito di ciglio. E poi si fa uccidere per salvare il figlio. È sempre lo stesso canovaccio. Mi innamoro di un personaggio e dico questa serie la guardo. E poi si lascia uccidere per la debolezza di qualche bastardo. Thor's e Boromir. La loro morte è praticamente uguale. No, ma dico, è normale. Cioè, anzi, la dico meglio. Ma vi pare il modo? Così posso mandare a cagare pure Frodo. Cioè, Thor's lo yeti muore come barba bianca. In piedi. Lo so, ho inventato il nome solo per fare la rima. Ma senza di lui questa serie non sarà più come prima. Eppure, nonostante quello che è successo, Villan Saga praticamente comincia adesso. Cioè, Thorfinn segue i pirati per ottenere vendetta. Anzi, glielo grida in faccia, in maniera schietta. Ah, Schelad, io ti ucciderò. Te la prometto. Questa spada nel... Matte. Nel cuore te la metto. Ti ucciderò. Senza dubbio. Non mi fermerà nemmeno un pranzagubbio. Ti ucciderò. E non ti salverà nessuna scorta. La mia lista di morte è molto corta. Cioè, ti alleggi, guarda, ci sta solo il nome tuo. Ah, non leggi? È perché è scritta con la vernice fluo. Sta lista sembra vuota. Ma mica sta vendetta sarà una sola. Oddio, mica sarà come la lista di Arya Stark. Che se ne ammazza due è grasso che cola. Tutta sta pippa da svolgere in un duello leale. Sta cazzata plateale. Thorfinn, ma perché non l'hai ucciso mentre dormiva? Se erano tutti leali, tu padre mica moriva. Per dieci anni si porta sto fardello. E non lo vince mai il duello. Certo, la strada è tutt'altro che spianata. Cioè, Thorfinn fa solo i versi, ma non sa impugnare la sfada. È come dire, voglio fare il tennista. Ho imparato tutti i versi. Eh sì, ok, ma la racchetta? Così ogni giorno è una disdetta. Allora voglio fare l'attore porno. Lì sarò protagonista. Cazzo, anche gli stessi versi. So quelli del tennista. Ma, caro Thorfinn, il problema è sempre quello. No, non devi portare la racchetta. Casomai il pisello. Se Thorfinn non diventa un guerriero, saranno guai. E sto benedetto duello non lo vincerà mai. Così migliora diventando uno di quei pirati. Gli stessi che hanno ucciso il padre. Perché loro sono stati. E puntata dopo puntata, noi rivedremo la stessa puttanata. Alla fine Thorfinn viene usato, dal carnefice che ha giurato, di accompagnare personalmente all'altro lato. Questo ordine ripetitivo, quando verrà spezzato? Nel 1013. Quando la truppa di Askeladd dovrà proteggere il principe Canuto dagli attacchi di un bruto. Il principe è danese. Ed è stato preso di mira dall'esercito inglese. O meglio, viene preso in ostaggio da un grande fustaccio. Si chiama Thorkell. E cosa ci dice? Che lui è fortissimo, ma è un po' più debole di quello che è morto felice. E allora siamo sicuri che le sue abilità in combattimento siano decenti? Beh, usa gli alberi maestri come stuzzicadenti. Come si salva sto principe Canuto da uno così forzuto? Oddio, con un incendio appiccato con ingegno, che lo divide dall'uomo grande con un mascigno. Così Thorfinn diventerà la guardia del corpo del principino, perché alla fine sono spiccicati, hanno lo stesso visino. Infatti Canuto indossa un elmo, per non farcelo vedere. L'elmo ricorda quello di Griffith. Ecco perché mi sta sul sedere. Questa teoria ha un fondamento. Quando Canuto vede un falco, ordina al suo servitore di catturarlo. E quello che gli risponde, se col gazzo che riesco a farlo. Ma torniamo alla narrazione di questo principe insultato da ogni legione. Tutti dicono che non ha lo sguardo adatto per governare. In ogni puntata abbiamo visto soli muscoli comandare. Adesso basta lo sguardo? Ma vai a cagare. Anche lui ci si mette di impegno. Ha interessi che provocano disdegno. Ama cucinare. Ma solo gli schiavi lo devono saper fare. Perché in cucina ci va chi al culo c'ha le pezze. Un re è pieno di ricchezze. Canuto tu sei qualcuno. Un cuoco è nessuno. Ma vai a spiegare al re di Danimarca che al giorno d'oggi ogni chef in diretta sul canale 31 potrebbe comprarsi lui e tutta Belluno. Guarda che bello questo piatto. Eh sì chef. Vuoi assaggiare? Oh e dice sì. Non avessi solito. Il principe alla fine avrà la sua evoluzione. Sarà un nuovo personaggio. Grazie a un'illuminazione. Ovviamente divina. Mica in cucina. Sta per diventare la voce che darà un senso ai suoi guerrieri. Tutto questo mentre Thorfinn, Torkel e Askeladd stanno subendo danni seri. Lui scopre il vero valore dell'amore e loro danno alla neve un nuovo colore. Fino a quando decidono di fare squadra. Tutti dalla parte del principe Canuto. Ha cambiato sguardo. Ora tutto gli è dovuto. E così da ostaggio diventa sovrano del suo rapitore. E torna a casa di suo padre. Il re da vincitore. Per ucciderlo e diventarne il successore. Quanti meriti in così poche puntate. Quante mosse architettate. Eppure è Askeladd che le ha pensate. E poi lui le ha attuate. Quindi Canuto queste vittorie se le è davvero meritate? Secondo voi come farà a prendere la corona? È facile. Gliela mette in testa un'altra persona. Perché Askeladd di tutto si occupa. Uccide il vecchio re e poi si sacrifica. Anche la vendetta di Thorfinn in un solo gesto vanifica. Tutto in una sola puntata. La crociata personale del protagonista viene cancellata. Tu hai guardato quest'anime finora? Per vedere Thorfinn trafiggere Askeladd ancora e ancora? Hai sofferto dal primo momento? Per avere un riscatto nell'ultima ora? Attaccate allora. Un racconto senza il finale promesso. Non è più lo stesso. È come se in un porno l'idraulico suoni il campanello. Tu che guardi ti prepari e tiri fuori il manganello. Poi durante il pagamento la moglie invece del suo corpo usa i soldi del borsello. E tu resti lì, triste col durello. Ecco, il finale della prima stagione di Villanzaga è proprio quello. Vuoi sapere che fine farà Thorfinn e la sua vita maledetta? Ve lo racconterò in un'altra favoletta. A mille ce n'è Di anime che so raccontare a te Di anima Grazie a tutti